buongiorno mister master maestro o semplicemente david lynch it's october 24 2021 it's sunday green naples 66 fahrenheit around 19 celsius questo significa che è è sì quella giornata veramente 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 mite con questi giorni in questo periodo anche se comunque fa ci sono comunque i gradi in meno quindi fa quel fresco diciamo in più di cui ho parlato nei giorni scorsi oggi la ringrazio di nuovo per certamente per secondo giorno di weekend projects e quindi ricambio e grazie e quindi ricambio anche per lei la fortuna per i suoi progetti e poi pensavo al fatto che il mio napoli calcio ha la possibilità di fare nove vittorie consecutive all'inizio del campionato record proprio assoluto già otto vittorie consecutive sono state il record ma è una partita difficile oggi contro la roma in casa della roma ma magari scrivo qualcos'altro in descrizione perché se dentro il video già lungo si allunga troppo ancora di più dico solo che il confido c'è ovviamente anche nei suoi numeri per il risultato finale comunque come vi ho visto da un'altra parte Grazie a tutti Today we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine Sì sì, it's totally cloudy and wind, grandissimo vento, molto pericoloso perché Infatti le tapparelle insomma sta sbattendo un po' tutto, sta un po' rivoltando tutto Credo che ha visto da questa inquadratura leggermente nuova E quindi insomma è una sfera molto brutta, diciamo grigia A dire proprio dark, ovviamente sarà ancora più oscura Le tappare successive, ho letto che sarà così anche come dicevo anche ieri nei prossimi giorni Ovviamente le cose possono sempre cambiare ma questo tipo di meteo la vedo un po' dura L'atmosfera la vedo un po' dura che cambiano But as always we will see, said this So, from the mythical window with the Calare de Cortell Beautiful but dark, obviously Calare de Cortell today And it's green roller shooter And finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 Il PG 625 Have a great day Im Yousef Christofol Always One Il mio Il mio più grande fan sempre al momento Yusef Douglas Molly Patrick I think a new No Una new entry che si è scritta Italiana Musidora And so Again A great day Im All these people And everyone too No All these people And you All these people You Grazie.